Salve, ben ritrovati a tutti sulla Nuova TV per l'appuntamento meteo. Stiamo vivendo delle giornate molto particolari, a parte l'emergenza coronavirus. Stiamo vivendo giornate da piena estate, si può dire, a livello di configurazione barica. Naturalmente siamo a ottobre, le giornate si sono accorciate di molto. Però le temperature sono da fine agosto, inizio settembre. Quasi tutta la regione in questo momento registra temperature superiori ai 20 gradi, in molte zone anche superiori ai 25 gradi. Quindi sono valori di 7, 8, anche 9 gradi al di sopra delle medie stagionali. Complisce questa alta pressione che da un po' di giorni sta, diciamo, anche finalmente riportando il bel tempo, ha riportato il bel tempo sulla nostra regione dopo alcune settimane di maltempo, di piogge anche piuttosto forti. Queste ottobrate, diciamo, tipiche dell'Italia, sono favorevoli anche in questo periodo dove ancora molti devono vendemmiare per raccogliere gli ultimi ortaggi dall'orto. Insomma, e soprattutto anche per i funghi, visto che negli ultimi giorni è scoppiata proprio la ricerca quasi spasmodica di funghi, molti ricercatori micologici sono ormai nei boschi a cercare funghi che stanno uscendo davvero in abbondanza, vista le temperature favorevoli alla crescita appunto dei funghi. Lasciamo l'aspetto micologico, vediamo invece per quanto riguarda il meteo, cosa ci riserve all'occhio del satellite che dall'alto inquadra bene la situazione sull'Europa. Sulla parte destra del teleschermo notiamo l'alta pressione che sta ancora tenendo, vedete l'Italia centro-melidionale, tutta l'Europa dell'est fino alla Turchia sotto l'egita dell'alta pressione che ancora resiste, mentre le perturbazioni spingono da ovest, sulla sinistra le nubi a forma di ciottoli, quelle bianche in alto a sinistra, denotano la presenza di aria molto fredda che va a toccare proprio la Scozia, l'Irlanda, l'Inghilterra. Invece le perturbazioni che si cominciano a organizzare sul centro dell'Europa e sulla parte occidentale, quindi sulla penisola eberica, in procinto di poi arrivare anche sulla parte dell'Italia meridionale, seppur in modo attenuato. Vediamo lo zoom sulla nostra penisola, lo zoom che ci mostra appunto la perturbazione che avanza, sono i protomi della perturbazione, quelle nuve molto sottili, vedete sull'Italia centrale, stanno interessando adesso il Lazio, le Marche, ma sono nubi soprattutto a livello di cilici, rostrati, insomma nubi di velatura. Per il resto le precipitazioni invece interessano il nord-ovest e i paesi confinanti con l'Italia, Svizzera, Francia, dove sono in alto delle piogge piuttosto insistenti. Andiamo a vedere quindi con questa situazione, abbiamo visto questa nuvolosità alta e sottile che avanza, quindi in serata, in tarda serata, dovrebbe arrivare qualcosina anche da noi. Vediamo la grafica riferita alla giornata di oggi, nubi che arrivano in serata, quindi andranno a fuscare un pochino il cielo, nulla di più, non avremo cumule, avremo queste nubi piuttosto alte che veleranno un pochino la luna, nulla di più, non sono previste precipitazioni. Questo però permetterà alle temperature di alzarsi. Negli ultimi giorni c'è stata molta differenza tra giorno e notte, quindi escursione termica piuttosto elevata, perché l'alta pressione spinge l'aria al suolo, l'aria al suolo più fredda, quindi più pesante, si deposita nelle vallate. Infatti sono 3-4 giorni che ritroviamo della brina nelle prime mattinate, cosa che non si verifica invece in montagna, dove c'è escursione termica, dove l'aria calda è più leggera e quindi va a toccare le cime più alte degli appennini. Vediamo la giornata di domani, giornata di domani all'insegna di un progressivo peggioramento. In mattinata avremo ancora queste nubi che via via da alte diventeranno medie, quindi in altezza intorno ai 4-5 mila metri si abbasseranno di quota, quindi queste nubi, e si formeranno i primi cumuli, quindi nel corso della tarda mattinata, primo pomeriggio, il cielo si farà più minaccioso e sono in arrivo delle piogge, credo intorno al tardo pomeriggio, insomma un po' prima del tramonto, avremo le prime piogge a partire da ovest, piogge che saranno più significative sulla parte occidentale della regione, meno invece su quello orientale dove arriveranno solo in forma piuttosto isolata. Si tratterà comunque su tutta la regione di piogge, un paio di ore, due o tre ore di pioggia, non di più, poi in serata dovrebbe migliorare, a parte le zone tirreniche dove lì rimarrà, come sappiamo quando le perturbazioni vengono da ovest, lì rimarrà un po' di più il peggioramento perché le correnti da ovest vanno a impattare contro le appennine e scaricano il quantitativo di pioggia maggiore con la loro umidità. Le temperature per domani, dicevo, minime in sensibile aumento, quindi cominciamo ad aumentare di diversi gradi, intorno a potenza avremo intorno ai 10 gradi, 12 gradi a materia con massime che si abbasseranno per via dei venti, soprattutto e anche per la nuvolosità, 17 a potenza, 23 a materia, siamo ancora sopra le medie ma cominciamo a rientrare nella normalità. I venti da ovest e sud ovest, in rinforzo a partire dalle zone più alte dell'Appennino, poi i venti aumenteranno anche nelle zone più basse come intensità, e i mari risulteranno ancora calmi o quasi calmi, in tendenza a poco mosso per lo Ionio, scusate, per il Tirreno, per via di questi venti e per la perturbazione che arriva da ovest. Ci spostiamo alla domenica, quindi abbiamo visto il sabato un veloce peggioramento nel pomeriggio, inizio sera, poi il miglioramento, e questo miglioramento lo ritroveremo anche domenica, ci saranno degli strascichi della perturbazione, quella non ho indicato piogge, a parte le zone della costa di Maratea, a parte le zone più meridionali della regione, non ci dovrebbero essere piogge significative, qualche piogge occasionale, qualche rovescio veloce potrebbe esserci, non l'ho indicato perché in linea di massima il tempo sarà discreto, con pochi nubi, un po' di addensamenti lungo le zone interne del Potentino, ma nulla di più, vedete, la domenica rimane piuttosto gradevole, però non come i giorni scorsi, perché avremo comunque vento piuttosto sostenuto, e un ulteriore lieve calo, vediamo per quanto riguarda le temperature della giornata di domenica, dicevo lieve calo sia delle minime che delle massime, 9 gradi a potenza alla minima, 11 a Matera, per quanto riguarda le massime invece valori di 16 gradi a potenza, e 21 gradi a Matera, quindi sono valori che riescono più o meno a avvicinarsi alle medie del periodo, anche se a fine ottobre dovrebbe fare un pochino più freddo, però ben vengono queste temperature, i venti sono da ovest, piuttosto sostenuti, quindi vedete due barrette, insomma venti intorno ai 30-35 km di media, con il marionio che rimane quasi calmo, o calmo addirittura, mentre il tirreno si fa un pochino più movimentato, diventerà mosso, ma insomma nulla di più, perché poi questa perturbazione passa rapidamente, come abbiamo visto dalle previsioni, insomma alla fine lascerà pochi millimetri di pioggia, se non limitato, questa pioggia un po' più forte, limitate alle zone occidentali, per il resto un passaggio piuttosto rapido, lunedì ci apprestiamo a vivere la prossima settimana, con un'estrema variabilità, soprattutto nei primi giorni, lunedì in attesa di un'altra perturbazione, questa volta un po' più significativa, vediamo le previsioni per lunedì, inizialmente cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la regione, nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità, quindi a partire da ovest, rimane il sereno sulla zona orientale, sul materano in linea di massima, ma cominciano le piogge invece a interessare le zone tirreniche, le zone della Gonegrese, questo è un sintomo diciamo di un peggioramento, che poi avverrà il martedì, quando l'Italia sarà interessata da un'altra perturbazione, e questa volta il sud dovrebbe essere colpito in modo un pochino più sensibile, nulla di più, non avremo piogge fortissime, però piogge sicuramente che lasceranno il segno, qualche millimetro in più rispetto a quelle di domani ci saranno, le temperature caleranno naturalmente. A questo punto non mi resta che farvi vedere il grafico riferito agli spaghetti, che ci mostra proprio questa tendenza delle temperature a scendere, ecco la linea rossa e quella media degli ultimi 30 anni, siamo decisamente su valori come vi dicevo prima, di 7-8 fino a 9 gradi al di sopra delle medie del periodo, temperature molto gradevoli, che poi tra lunedì e martedì scenderanno su valori normali, poi probabilmente avremo un'ulteriore diminuzione delle temperature tra mercoledì e giovedì, quando le piogge potrebbero essere più dense, anche se dal punto di vista grafico delle piogge non sono tanto d'accordo, perché passata la perturbazione di martedì non credo ci siano altre piogge, quindi lasciando stare il grafico vi dico che a parte, come dicevo, martedì che ci sarà una nuova perturbazione, probabilmente poi il resto della prossima settimana sarà di nuovo all'insegna dell'alta pressione, quindi tra fine ottobre e inizio novembre, quindi il periodo della festività dei Santi e della ricordenza dei morti, dovrebbe essere all'insegna del bel tempo, nonostante i modelli indicano delle carte diverse con un peggioramento del freddo, io sono dell'avviso che a parte la perturbazione di martedì, che porterà di nuovo piogge sulla Basilicata, da mercoledì e giovedì si aprirà un periodo migliore, con temperature nuovamente in aumento, vedremo se poi alla fine avrò ragione, per il resto non mi resta che augurarvi un buon weekend, e arrivederci sulla nuova TV. Grazie a tutti.